Minister, buonasera, intanto complimenti. Seconda vittoria consecutiva, prima partita sua forse senza prendere gol, ha cambiato qualcosa, ha cambiato la difesa, ha cambiato l'atteggiamento, comunque è stata nella Cremonese, combattiva fino alla fine. Ricchito se c'è un po' di rammarico di aver vinto solamente 1-0, aver sofferto fino alla fine, visto anche le tante occasioni create nel secondo tempo. Beh no, adesso c'è la soddisfazione per la partita, c'è la soddisfazione perché hai battuto una squadra che giocano a memoria, da tanti anni che giocano quel calcio lì, hanno quell'idea lì, sono molto chiari, come abbiamo detto sono molto bravi. La Cremonese è partita benissimo, poi siamo andati in vantaggio, poi ci siamo abbassati un po' troppo, è chiaro che dovevamo essere più bravi nel coprire il campo e nel chiudere i riferimenti al loro possessore di palla. Però man mano che la partita è andata avanti, come hai detto giustamente tu, dopo la Cremonese è riuscita a coprirmi nel campo, è riuscita a ripartire, è riuscita a mettere in difficoltà gli avversari. Quindi bene, bene perché si è visto un atteggiamento, un'attenzione, una voglia di arrivare fino alla fine, di guadagnarsi questa bella vittoria con tanto sacrificio, con tanta attenzione, determinazione e qualità di gioco anche. Perché poi quando siamo ripartiti abbiamo creato difficoltà, ripeto, a una squadra che se la gioca contro tutti e contro tutti penso al Napoli, penso al Milan, insomma è una squadra che ha davvero una idea chiara. Ecco, Ministro, una compattezza, uno spirito di gruppo che è stato decisivo, sia nel momento in cui si è avuto la possibilità di andare avanti, sia nel momento in cui ci si è difesi. Abbiamo visto per esempio un Meite spesso e volentieri fare il difensore centrale, cioè aggiungersi ai difensori. Quindi lo spirito di sacrificio è quello che ha portato questa squadra dopo tante partite a vincere due consecutive. Quindi è un grande passo avanti, al di là poi della classifica che non la guardiamo. Sì, sì, ma sono, esatto, l'abbiamo sottolineato, sono così fatti che, insomma, si è visto una squadra, si è visto una squadra, si è visto l'atteggiamento giusto, si è visto che sai soffrire, perché sai soffrire, però nello stesso tempo quando devi attaccare, attacchi e cerchi di far male agli avversari, si sono viste tante buone cose. Meite non sa nemmeno lui quanto è forte, non lo sa neanche lui, perché davvero è un giocatore, oggi ma anche contro la Sampdoria è stato davvero importante per noi, perché poi dopo avere un giocatore così i compagni sono felici di giocare con un giocatore che quando hai la palla è sempre lì e ti dà una mano, in fase difensiva fa sempre, c'è sempre, per me il bravo centrocampista è quello che è sempre fra la palla e la propria porta, questo è il centrocampista forte. Se il centrocampista non è a difesa della porta, allora dopo deve rincorrere e in Serie A non te lo puoi permettere, perché quando tu rincorri hai già preso gol. E quindi oggi si è visto una squadra che, tutti insieme, ripeto, con grandi difficoltà nel primo tempo, perché sono stati bravi a non dare riferimento agli altri, hanno tenuto la palla e magari ci hanno messo nel mezzo perché arrivavamo in ritardo. Nel secondo tempo siamo stati più bravi a coprire il campo e quindi, insomma, bene, però non abbiamo fatto, siamo contenti, abbiamo vinto, ma adesso siamo già proiettati a un'altra partita. Ministro, buonasera e complimenti, abbiamo detto che tutti hanno fatto bene, vorrei soffermarmi su altri due singoli, abbiamo parlato di un difensore e di un attaccante, da una parte Vasquez e dall'altra Saju, perché penso che fino a che hanno giocato Vasquez, tutta la partita, Saju poi è stato sostituito, hanno dato veramente l'anima in campo e proprio hanno giocato con grande cattiveria, grinta e cuore, che sono poi le caratteristiche che servono anche da qua in avanti. Infatti volevo un commento a riguardo, perché comunque sono due giocatori, Vasquez da una parte che ha avuto una prima parte di stagione un po' turbolenta, non ha giocato tanto e Saju che è un giovane che ormai sta trovando grande continuità. Per me lei può farlo allenatore, forse è anche più bravo come allenatore che come giornalista, non lo so, sono d'accordissimo. Sottolineo davvero la prestazione, è chiaro che devi sottolineare la prestazione di tutti, però è vero che Vasquez ha fatto una bellissima partita, è altrettanto vero che Saju ha fatto reparto e quindi cosa aggiungere? Hanno il dovere, visto che ci hanno fatto vedere che sono capaci di fare queste partite, queste prestazioni, hanno il dovere di continuare così, con questo atteggiamento, con questa voglia, con questa qualità e soprattutto con questa disponibilità, come hai sottolineato tu. Sì, mister, una delle novità è stato lo schieramento, abbiamo visto per la prima volta forse una difesa a quattro dal primo minuto, volevo chiederle se era più dettato dai vari problemi che ci sono stati oppure se è una soluzione a cui pensa, vista anche comandata, di dare continuità e poi le volevo chiedere un commento sull'arbitraggio perché è parso un po', oserei dire, turbolento, un po' confusionario personalmente. Parto dall'arbitraggio, io non commento mai gli arbitri, perché proprio loro fanno il loro mestiere, possono far bene, possono sbagliare, ma come lo facciamo noi, come lo fai tu, il tuo mestiere, ed è giusto, credo, insomma, siamo, per me, noi abbiamo il dovere di essere un esempio e l'esempio è quello di non commentare l'operato dell'arbitro perché ci può stare che faccia bene, che faccia male, quello non mi interessa, lui cercherà sempre di fare il suo meglio. Per quanto riguarda il discorso della difesa 4, voi sapete già dal primo giorno più o meno che la nostra idea di gioco è quella di giocare con la difesa 4 per avere magari un centrocampista in più o avere un attaccante in più, poi, come abbiamo sempre sottolineato, ci sono delle caratteristiche, ci sono delle scelte che bisogna, caratteristiche intendo giocatori, scelte magari di quando hai costruito la rosa e quindi non puoi penalizzare tanti giocatori perché non avrebbe senso, quindi di volta in volta sono più importanti, come abbiamo sempre sottolineato, i principi di gioco.